Ciao a tutti, mia cara famiglia italiana, io mi chiamo Harry Urban e vi vorrei raccontare una storia. È una storia che riguarda un personaggio che noi chiamiamo Johnny Seme di Mela. Johnny Seme di Mela andava in giro per le campagne a piantare semi di mela e mentre lo faceva le altre persone si chiedevano ma che cosa sta facendo? Dopo un po' però questi semi crebbero e diventarono dei bellissimi alberi di mela che producevano dei bellissimi frutti. Ora, io sto diventando la versione americana o la versione italiana per voi di Johnny Seme di Mela. Magari io sono Harry Seme di Mela, non lo so, o magari sono Harry Seme di Mente. Ma comunque, quello che io faccio è piantare i semi della consapevolezza mentale e lo faccio ovunque io vada, da costa a costa. A chiunque voglia sedersi ed ascoltarmi, io racconto la mia storia di consapevolezza mentale. e col passare degli anni inizio a vedere i semi che ho piantato crescere e stanno crescendo e diventando questo movimento di consapevolezza mentale e quello sarà il mio lascito. A chiunque voglia sedersi ed ascoltarmi, io racconto la mia storia di consapevolezza mentale e il respiro scorra e ti doni nuova vita.